buongiorno buongiorno a tutti sono barbara sorgesa da form expa eccoci arrivati all'ultimo incontro del ciclo formativo la didattica è stato un percorso lungo articolato che ci ha visto affrontare tanti temi siamo passati dalla comunicazione web e social per la pia al piano nazionale di ripresa e resilienza ai dati aperti sempre nella pia con il webinar di oggi andiamo a concludere proprio quest'ultimo modulo quello su dati aperti lo faremo sempre in compagnia di andrea borruso lo ricordiamo esperto in dati aperti e di sistemi informativi geografici oltre che presidente dell'associazione ondata per l'apertura e l'accessibilità proprio dei dati pubblici prima di lasciare la parola adesso ad andrea ricordo semplicemente che è prevista una brevissima pausa verso la metà dell'incontro e che possiamo continuare a utilizzare lo strumento della chat per tutte le nostre osservazioni momenti di confronto e domande andrea buongiorno e a te la parola buongiorno a tutte e tutti e grazie per me c'è anche una certa emozione no a fare quest'ultimo incontro con questa ricchissima platea insomma per chi è da questo lato è anche una bella una bella responsabilità allora chiedo ovviamente come sempre a barbara eventualmente che se dovessero arrivare domande e non me ne accorgo di di farmelo notare e grazie e iniziamo con quest'ultimo momento quella di oggi sarà una sorta di diciamo carrellata cioè ho provato a mettere in fila sia degli aspetti come dire diciamo da da manuale nel senso da linee guida da documenti da raccomandazioni ufficiali sia quegli elementi che poi da chi è utente vengono valutati di altissimo livello perché cambiano completamente la possibilità di riutilizzo io diverse volte in questi quattro incontri vi ho detto di andare in qualche modo oltre le norme nel senso che le norme sono ottime le linee guida sono ottime ma fate sempre attenzione poi alla efficacia di alcune di queste di questa opportunità nel senso che delle volte può essere se consentito può essere magari meno necessario tenere conto di una raccomandazione mentre magari fare una scelta che non è prevista nelle raccomandazioni ma che deriva da un ascolto di uno più portatori di interesse che rende la scelta di pubblicazione di certi dati aperti un elemento che ha un impatto reale sul vero sul vostro territorio sulle persone sugli studenti sulle aziende insomma ci torneremo anche oggi su su questo tema sempre un altro elemento introduttivo oggi è la classica giornata in cui mi sarebbe piaciuto tantissimo e potervi condividere lo schermo non possiamo farlo perché con un'aula così ricca abbiamo enormi problemi di banda quindi in qualche modo dobbiamo andare di slide condivise oggi mi mancherà un po allora oggi è dedicato alle buone pratiche di pubblicazione e riuso ancora una volta elementi perché noi stiamo facendo come dire in otto ore e quello che magari si dovrebbe fare in otto giorni dico un numero un po a caso insomma ci sono una quantità di aspetti soltanto gli aspetti per dire formali da soli potevano valere tutte queste otto ore quindi diciamo sono pigliate di sempre come pillole come spunti come qualcosa che vi dovrebbe stimolare degli approfondimenti pubblicazione allora e le linee guida open data sia diciamo il documento ormai in qualche modo vecchio sia quello in consultazione e a proposito la consultazione aperta è un'occasione importantissima chi meglio di voi che ci state dentro potete aggiungere degli elementi di proposta di arricchimento quindi andate sul sito di di agid cercate le linee guida e partecipate nelle linee guida e quando si parla di pubblicazione ovviamente si dice che tra le tante cose la modalità per rendere accessibili i dati la modalità di pubblicazione dei dati deve essere quella che passa attraverso le famose api l'acronimo di application programming interface che addirittura rende questa modalità un vincolo quindi in qualche modo non è nemmeno più una scelta nel caso di dati dinamici e di e nel caso della serie di dati di elevato valore dati dinamici dati dinamici abbiamo abbiamo fatto sempre come esempio non rifaccio adesso quello dei dati i dati meteo ad esempio quindi tra di voi ci sono pubblici pubbliche amministrazioni regionali molte pubbliche amministrazioni regionali hanno nel tre loro strumenti diversi sensori a volte anche centinaia di sensori meteo nel territorio che alimentano spesso i portali delle arpa ma comunque alimentano i portali dati e quei tipi di dati sono dinamici perché sono a variazione in realtà praticamente continua poi chiaramente le pubbliche amministrazioni fanno delle scelte molto spesso non viene pubblicato il il dato in real time viene pubblicato molto spesso ad esempio una media oraria ma comunque sono dinamici dinamici nel senso che variano tanto poi sono tra cui dati che diventano abbastanza diciamo in maniera conseguenziale diventano dati dati grandi diciamo diventano anche big data big data sono non dovete pensare al milione di record di un diciamo di un foglio excel dovete pensare soprattutto a dati veramente di grande dimensione che soprattutto variano di continuo diciamo di big data oltre a essere grosso deve avere come definizione una variazione continua per questo tipo di dati la pubblicazione deve essere fatta di api perché essendo dati così di grandi dimensioni così variabili il tipo di connessione ideale è quello cosiddetto machine to machine cioè un personal computer un codice che avete scritto deve poter fare un'interrogazione e tramite un'interfaccia un'interfaccia documentata fa una cosiddetta chiamata una sorta di query per chi di voi lavora con i database e viene restituito un risultato dati dinamici ovviamente oltre a quelli meteo potrebbero essere quelli dell'inquilimento atmosferico anche lì andiamo nel contesto dell'arpa regionale dati di elevato valore da pubblicare via api tra virgolette sono in qualche modo ancora lavori in corso nel senso che si stanno si stanno definendo rispetto alla normativa europea e al rispetto al suo recepimento in italia una mappatura diciamo ci sono ci sono ovviamente delle categorie delle categorie di alto livello già definite tra cui dati statistici dati dati geografici ma verranno documentati prossimamente sono un po l'analogo del del paniere di cui abbiamo parlato in qualche modo il paniere regionale e il paniere nazionale che che vi ho mostrato sono una scelta basata sul valore che chi li ha prodotti ha valutato nel senso sono stati scelti tra quelli di definiti diciamo di grande impatto per le per le per le persone è quello che verrà fatto su questi dati sarà un qualcosa di simile api quindi anche su solo su questo tema ci sarebbe da fare un intera un intero corso io rimango moltissimo su per ora ripeto concetti assolutamente di altissimo livello e i principi di base sono la disponibilità dell'epi banalmente la possibilità diciamo di fare una chiamata avere una risposta la stabilità delle stesse tenerle ovviamente in manutenzione questo in qualche modo voi direte vale per tutto si vale per tutto però siccome le pia in qualche modo sono pensate per avere un accesso non vi dico continuo ma insomma chi di noi scrive codice spesso interroga il portale dell'arpa ogni mezz'ora per vedere se c'è una certa verifica quindi diciamo un conto di avere un sito in cui una shot pubblico una notizia ma anche pubblico un dato pubblico un dato annuale che non ha variazioni un conto è pensare alla pubblicazione di api dove l'attenzione alla manutenzione è molto più critica perché è molto più probabile che ci siano chiamate continue ed è molto più probabile che sia un sistema in cui visto la presenza di chiamate continue devo fare delle del tuning del dei settaggi in grado di rispondere a diverse chiamate eventualmente metterle in coda quindi costruire dei meccanismi di coda rispetto alle chiamate e tagliare ad esempio il numero di record restituiti sto facendo soltanto degli esempi restituiti a una chiamata a un numero piccolo molto spesso le chiamate di api sono paginate ovvero immaginate che per quella misurazione atmosferica io se faccio una query alla data di oggi immaginate che io possa ricevere 10.000 record sto esagerando 10.000 record con decine e decine di chiamate concorrenti possono comunque in certi casi mandare in crisi un sistema allora molto spesso si si restituiscono risultati paginati quindi di mille in mille e così via facilità d'uso e sicurezza sono due altri due elementi che voi mi direte ma questo vale sempre vale di più in questo caso per i motivi detti prima facilità d'uso avete un paio di aspetti fare per riferimento a degli standard esistono anche gli standard che sono citati nei documenti che comunque trovate in questo elenco puntato successivo ma ci sono anche degli standard di documentazione dell'api ne vedremo qualcuno in qualche slide successiva cioè comunque le pubbliche amministrazioni che pubblicano dati tramite api nella gran parte dei casi vedrete che hanno una paginetta pensata per gli sviluppatori perché attenzione sono false quelle cose che si quando si dice questo deve essere per tutti e tutte a alcune modalità di accedere i dati non sono per tutte e tutti però devono avere una documentazione in modo tale che ok so che i principi sono questi mi tocca studiare e a quel punto io che non ho mai non ho mai sviluppato non ho mai fatto una quesia non ho mai scritto codice dovrò capire che cosa è un'interfaccia api e capire quando mi viene restituito un file json perché molto spesso il formato di output di tramite piante un json un file json come lo lo elaboro io sono abituato magari ho visto soltanto delle tabelline un file json a una struttura diversa ne abbiamo visto quindi come esistono due guide di riferimento fondamentali che sono quelle per l'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni che individuano le tecnologie gli standard che le pubbliche amministrazioni devono dare in considerazione durante tutta la realizzazione dei propri sistemi informatici attenzione non so questo documento non è pensato per i dati aperti è un tema molto generale molto orizzontale l'interoperabilità pensate alle fatture elettroniche l'interoperabilità pensate alle ai contratti l'interoperabilità è qualcosa che sempre di più tutta la pubblica amministrazione sarà come dire costretta a ad avere sempre a mettere sempre in atto gli open data se tutto pensato in maniera interoperabile ne terranno anche loro vantaggi perché in qualche modo gli output verso l'esterno pensati come dati aperti saranno molto facilitati fra l'altro l'interoperabilità ovviamente è pensata e queste linee guida sono pensate per l'interoperabilità non soltanto per mettere tra loro in contatto enti sistemi regionali sistemi centrali regionali e locali ma ovviamente diciamo con tutto il mondo e sicuramente con l'unione europea se pensiamo cito ancora una volta le arpa e le arpa ad esempio fanno tutte interoperabilità magari qualcuno di voi mi dirà che funziona male qualche volta che ci sono delle criticità ma comunque hanno diciamo obbligo di comunicazione pubblicazione verso nodi europei e quindi l'interoperabilità pensata a monte quindi pensata sin dalla progettazione faciliterebbe anche quello che è un obbligo tra virgolette che può diventare automatico e che in molti casi è automatica queste linee guida assicurano l'aggiornamento rispetto all'evoluzione della tecnologia e rispetto all'adeguatezza dei necessari livelli di sicurezza tengono conto dell'adozione di sistemi interoperabili da parte di tutti i soggetti se pubblici e privati ed è un documento che anche noi esterni prendiamo come riferimento un ottimo documento l'altro documento che cito qui disponibile anche lui come tanti documenti che vi ho citato in queste in questi incontri sono disponibili su docs italia il sito di agid team digitale dedicato ai documenti pubblici digitali sito eccezionale rispetto a mio avviso rispetto ai pdf nel senso che sono documenti leggibili direttamente sul browser leggibili da qualsiasi terminale questa è una modalità a cui pensare anche per i vostri portali open data perché comunque nella parte di documentazione vi citerò un esempio è utile che ci sia altissima leggibilità e accessibilità diciamo è anche un obbligo formale comunque vi dicevo l'altro documento è linee guida su tecnologie standard per la sicurezza dell'interoperabilità e la trovate linkata in questa slide è presente su docs italia e ove possibile la pubblicazione tramite api questa è una raccomandazione che trovate nelle linee guida ancora in approvazione ove possibile si raccomanda di utilizzare api è un requisito che il 27 per rendere disponibili per l'utilizzo tutte le tipologie di dati non soltanto quelli dinamici e o quelli di elevato valore quindi diciamo il requisito è forzato su quelli dinamici e quelli di elevato valore diciamo sarà forzato visto che ancora non è approvata e però io trovo molto interessante che ci venga detto già oggi occhio che il mondo dei dati è diverso ormai e pensiamo a pubblicare tutti i dati ove possibile sfruttando modalità che consentano in maniera diretta l'accesso da macchina a macchina una delle modalità appunto è quella tramite api delle linee guida in termini sulle sulla pubblicazione nelle linee guida da open data ci sono delle raccomandazioni generali alcune di di queste raccomandazioni in qualche modo sono state già accennate perché comunque in tutti e tre gli incontri precedenti abbiamo sempre parlato di temi che avevano a che fare poi con la parte finale delle di quello che andrete a fare andrete a fare con le dati aperti dunque punto uno assegnare data sette nomi auto auto esplicativi per comprenderne il principale contenuto poi mi direte vabbè borruso ma che ci dice lo facciamo sempre e ragazzi non è vero nel senso che io stesso parlo per me qualche volta alleggo per email file con nomi improbabili poi mi direte vabbè ma è un email chiaramente un email che ci mandiamo tra colleghi però delle volte troviamo che ne so dei data sette in cui il nome da solo non dice un gran che quindi questa è una raccomandazione da manuale come dire proprio di base date dei nomi che da soli in qualche modo possono parlare senza avere descrizione e fornire dove possibile descrizioni testuali dei data sette occhio dove possibile in qualche modo è falso nel senso è una se volete fare una pubblicazione che sia compatibile con i metadati di cattapit che è l'obbligo in Italia la descrizione ovviamente è obbligatoria il terzo principio ne abbiamo parlato nel primo incontro in cui ho parlato di licenze anche questa è una formalità ma è un fatto di sostanza mettete in evidenza la licenza che associate ai dati lo sottolineo anche perché non è detto che voi pubbliche amministrazioni pubblichiate tutti tramite un portale open data non è un obbligo il portale open data ci torniamo un po' ci torno un po' più tardi ci sono modalità che vi consentono di essere standard senza avere tecnicamente un portale nei portali open data ci sono dei automatismi per cui le licenze non solo sono obbligatorie ma sono visibili quindi voi andate nel portale della regione piemonte fate click su un dataset c'è il link alla licenza e questo un po' è il sistema che auto magicamente diciamo vi farà apparire la licenza qui c'è una raccomandazione carina che vi dice di mettere la licenza leggibile sia da macchina quindi con un codice perché sono codificate quindi con un url con un certo codice sia ovviamente la versione machine readable che fra l'altro trovate anche in italiano nel caso di creative commons la trovate in italiano e la trovate in due modalità la modalità che vi dice per punti chiave un po' come se chiacchierassimo comprensibile da tutti cosa posso fare con quei dati e poi c'è anche la versione in italiano completa il documento legale il documento diciamo da avvocato per intenderci che è quello formale di riferimento quarto punto ripeto raccomandazioni alcuni di quelli visti sono anche degli obblighi ma questo punto finale è una raccomandazione fornire dove possibile strumenti di visualizzazione e navigazione anche georiferita nel caso di dati spaziali che possono facilitare la lettura degli stessi questo ultimo punto arriva in un momento più maturo probabilmente però se lo pensate se lo pensate a monte e quindi domani domani tra sei mesi volete andare online col portale open data perché ancora non c'è se a monte vi ponete questa questione potete valutare col gruppo di lavoro se dedicare il 10 per cento del budget il 10 per cento del tempo un gettone in qualche modo a questo aspetto questo aspetto perché è importante per coinvolgere chi naviga sul portale e magari non è un esperto di dati quindi se io voglio un po' arrivare da tutte e tutti se predispongo delle dashboard dei grafici delle mappe magari anche non su tutto però su quei 5 10 aspetti che mi sembrano fondamentali per il territorio per il mio territorio quindi tagliati su ciò che ha senso nel mio territorio faccio una bella cosa inoltre come vi ho detto delle volte poter fare sintesi sui dati una mappa un grafico e una sintesi visiva dei dati alle volte vi fa scoprire cose a voi stessi cioè comunque se oltre alla pubblicazione nel team interno avete qualcuno che si occupa di fare delle visualizzazioni di sintesi per capire se c'è qualche andamento interessante che non si vede sfogliando 10.000 record per 20 colonne non si riesce a vedere quindi avete pubblicato dei dati secondo standard secondo regole perfettamente ma non vi siete resi conto che c'è un andamento interessante che a voi stessi ai vostri stessi uffici vi attiverebbe delle conseguenze a cui non avevate pensato conseguenze di comunicazione conseguenze di alert nel caso siano dati sul consumo del suolo sulla raccolta differenziata sui contratti pubblici insomma banalizza un attimo ma ci siamo capiti quindi questo non è da pensare soltanto per l'esterno ma anche per per l'interno questo punto il primo io lo stesso molto nel senso che prima di avere i capelli bianchi come adesso già ai tempi una cosa che facevo da utente esterno chiedevo ai gestori dei portali di rendere disponibili quindi delle modalità per sapere quando sui dataset c'era stato un aggiornamento e questo ovviamente di nuovo un po' dipende da quello che mettete in piedi se mettete in piedi un portale utilizzando un prodotto come Sican, come Socrata come se utilizzate un motore dedicato a pubblicare portali open data questi motori in modalità abbastanza di default, in modalità abbastanza standard hanno dei meccanismi per abisi automatici l'RSS feed che è una roba tecnologica vecchissima in qualche modo quasi nasce con il web è una modalità di pubblicare in formato xml aggiornamenti su qualcosa lo trovate ancora in molti giornali online quella specie di simbolo arancione che sembra un po' l'iconcina del collegamento wifi è un'iconcina simile a quella proprio in arancione col ventaglio se andate su ansa per esempio lo trovate ed esiste da sempre perché per esempio per essere continuamente aggiornati esistono dei lettori io su telefonino, su browser, su applicativo, su cliente di posta perché spesso si automatizza con la posta sono aggiornato tutte le volte che viene pubblicato il nuovo o un nuovo dataset e quindi per me il ricercatore è interessantissimo perché vedo che vengono pubblicati i dati sui beni confiscati in un territorio di cui fino a poco prima non c'erano o semplicemente sapere che non c'è un nuovo dataset ma che il dataset xy è stato aggiornato se pubblicate via API e se utilizzate SICAN il catalogo è accessibile tramite API avete meccanismi automatici per cui lo sviluppatore può creare un sistema può creare un bot quindi un oggetto che automaticamente per esempio manda un avviso in chat sulla vostra chat, su una chat di gruppo manda un'email tutte le volte che c'è un certo aggiornamento ancora una volta questo è interessantissimo per noi esterni ma secondo me può essere interessantissimo anche per gli uffici interni fornire strumenti per rendere le interrogazioni più agevoli anche per utenti non del tutto esperti questo anche questo è un elemento di maturità mentre il primo secondo me l'aggiornamento continuo non lo considera un elemento di maturità datolo per scontato fate in modo che gli aggiornamenti siano visibili o in maniera machine to machine o in un page ultimi dataset aggiornati lo darei come elemento di base questo secondo elemento magari pensatelo come elemento di maturità ovviamente è una scelta non vi sto dicendo che vale di meno però è importante perché quando si inizia a pubblicare dati in modalità migliori più ricche, più strutturate e quindi parliamo dei dataset per esempio in formato rdf parliamo di modalità accessibili e comprensibili soprattutto da esperti di settore ancora una volta un dataset rdf non è pensato per mia mamma perché mia mamma non ne capisce mia mamma è una ex ricercatrice a chimica quindi se fare certe cose tra virgolette difficili ma non ha idea di come di che cosa sia e anche se se lo apre non lo sa guardare in alcuni siti legati ai dati aperti quindi laddove c'è l'accesso a dataset a 4 e 5 stelle accessibili tramite query query sparkle viene quasi sempre predisposto una paginetta con degli esempi di query che sono non soltanto descritti e documentati ma sono anche attivabili cioè io mi trovo una query selezionami dal portale dei beni culturali tutti musei di un certo tipo quindi c'è scritto è documentato vi viene detto quali sono le specifiche ma c'è pure il tasto run quindi la query non soltanto la capisco ma la posso eseguire a quel punto ancora una volta se voglio farne una mia personalizzata mi tocca studiare però documentate gli esempi e le modalità è una un'altra delle raccomandazioni presente nelle linee guida in questo tema se non sbaglio ho parlato nel primo incontro gli identificatori diciamo sono gli indirizzi iurl o ancora meglio iuri cioè gli identificatori per puntare a un dataset e anche a una risorsa una distribuzione persistenti ne abbiamo già parlato se pubblicate i dataset con gli ultimi dati su piombo in atmosfera faccio questo esempio perché è un esempio più forte ma vale per tutti i dataset è bene che quell'url non cambi che rimanga persistente per mille motivi ma il più banale dei tanti è che se pubblicate dati aperti lo state facendo per il riuso cioè per fare per fare in modo che qualcuno lo utilizzi se gli cambiate l'url io mi ero fatto lo script ma mi ero messo anche il segnalibro diciamo ovviamente ad esempio lo script è più efficace perché chi usa segnalibri magari ha l'approccio visuale pazienza l'approccio visuale torno nel sito me lo guardo ma ovviamente l'identificatore persistente è pensato per l'accesso dalle macchine che ripeto è l'accesso verso cui si tende ormai parliamo soprattutto di quel tipo di di accesso univoco nel senso che non posso avere come dire url duplicati rispetto a url omologhi su dati duplicati insomma chiaramente è un identificativo è persistente non deve cambiare nel tempo e poi qui un po' banalizzato in questi in questo appunto che ho fatto a centro slide ma per darvi un'idea quando si pubblicano ed è una cosa impostabile a livello di chi scrive il codice che definisce il portale di pubblicazione a volte sono semplicemente delle configurazioni gli urli in qualche modo devono parlare da soli quando trovate url url molto lunghi vi sarà capitato tante volte di vedere che ne so a volte trovate quelle cose con la e commerciale no? end città uguale milano end genere uguale bla 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 in qualche modo sono url anche nella modalità che vi ho detto parlanti a volte non così parlanti come l'esempio che faccio io nell'accesso eh tipico tramite eh tramite eh eh potete fare come con questo esempio nome di dominio tipo di oggetto tipo di concetto riferimento quindi nell'esempio degli alberi monumentali potrebbe essere http eh www.ministerio dell'ambiente punto it slash dataset slash alberi monumentali slash id di quell'albero monumentale in qualche modo è un url parlante magari non per tutti ma è un url parlante anche su questo nei documenti che ho citato nella seconda slide ci sono dei linee guida che derivano da specifiche non ce le dobbiamo inventare ehm l'indirizzo dell'albero monumentale quindi questa frase in cui dico diverse rappresentazioni di una risorsa in caso di molteplici rappresentazioni possibili che sembra uno scioglilingua la dico in maniera molto più concreta un url come quello dell'albero monumentale non è detto che sia una pagina web e allora in dipendenza da chi è chiamato un certo indirizzo quindi un contest è chiamato da un browser quindi da un utente che sta navigando un contest è chiamato tra un codice ehm in php un codice python che fa una chiamata ehm all'API ehm in qualche modo ehm è possibile del raccomandato fare in modo che in dipendenza del possibilità di rappresentare una risorsa quindi la rappresento come una paginetta guardabile a schermo e quindi magari metto una foto sulla destra che era un url presente nel mio dataset foto monumenti quindi c'ho la foto sulla destra il titolo in grassetto molto leggibile la descrizione quindi la modalità è pensata per essere letta a schermo oppure c'è una modalità che a partire dalla stessa chiamata ma gli dico guarda dammelo in csv mi da il csv mi da ehm mi da il json ehm quando ehm quindi sono sono url che vengono detti ehm de ehm referenziabili quindi trasformabili poi in oggetti reali link ed open data ehm pochi accenno veramente 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 minimale e parliamo di link d'open data quando andiamo verso i dataset open data classificati a quattro stelle il livello minimo per parlare di open data è quello dei dei tre stelle diciamo banalizzo un attimo la pubblicazione in formato csv per per semplificare un attimo e mentre ehm nei link d'open data ehm a partire da quattro stelle si dà ehm un arricchimento molto importante ehm ai dati ehm qui ve ne ve ne accenno in qualche modo soltanto tre molto correlati tra di loro nei link d'open data una cosa che cambia completamente è il passaggio da codici identificativi in qualche modo a indirizzi ovvero se c'è un codice che rappresenta un comune un codice istat un codice di avviamento postale tutto ciò che è ehm controllabile in qualche modo che è identificativo la raccomandazione è passare da mhm da etichette a indirizzi ehm che eh definiscano e rappresentino in qualche modo formalmente quell'entità quindi eh vi farò vedere un esempio a breve ehm dati a cui poter fare ehm riferimento nel nel web quindi in qualche modo chiamate che poi siano ehm ehm disponibili nel web e soprattutto eh diciamo eh è una conseguenza non dipende da voi però dipende da voi se poi quell'url che voi esponete eh e quelle chiamate sono sono disponibili eh ottenere che la gente colleghi i propri dati a ehm ai vostri sempre tramite meccanismi di eh url eh e chiamate identificativi che mappino gli oggetti che voi eh pubblicate eh un esempio eh che deriva dal eh dall'analogo di quello che è l'Istituto Geografico Militare in Gran Bretagna che si chiama Ordine Ansarvey eh eh è eh legato proprio a a un codice a un codice postale eh quindi eh eh questo codice che vedete è c2a4je è un cap è l'analogo di un cap da loro eh ci si accede tramite un url quindi io inserirò nel codice dei miei cap eh l'url intero che mi consente di accedere a questa modalità di rappresentazione che è la modalità di rappresentazione pensata per l'uomo ma ci può essere la modalità di rappresentazione il file json pensato per la macchina che deve masticarsi coi dati e produrci qualcosa quindi eh nel nel mio elenco degli indirizzi alla colonna cap se eh esiste eh un archivio che rende disponibili eh indirizzi eh che rappresentano dei codici come nel caso del cap mettere url e non soltanto etichette i dati sette cinque stelle eh sono come dire ehm l'avanzamento totale e completo di ehm di questo concetto di url che mettono in relazione dati e eh informazioni nelle immagini che vedete eh in basso ehm secondo me molto didattica molto ben disegnata vi mostra è un eh ovviamente soltanto appunto un esempio un esempio didattico come nel contesto delle informazioni che passa per eh per il digitale eh gli oggetti che sono messi in correlazione tra di loro sono tantissimi sono eh gli strumenti che abbiamo nelle tasche gli smartphone eh i mezzi con cui ci muoviamo le reti su cui ci muoviamo nel territorio i sensori che abbiamo in cielo come i satelliti ma che abbiamo anche eh anche a terra ehm l'elemento chiave che eh non soltanto ehm uno degli elementi chiave è che non soltanto eh gli identificativi siano rappresentati tramite indirizzi ma che poi a quegli indirizzi corrispondono veramente degli oggetti quindi che non sia soltanto un'etichetta ma che quell'etichetta chiamata tramite url eh vi restituisca un eh una materia prima eh e se linkate verso l'esterno quella materia prima deve essere garantita quindi non soltanto voi avete degli urli interni ma la chiamata verso l'esterno realizza completamente l'accezione di linked pienamente quindi io faccio un'analisi su eh il tema del del genere quanti sindaci uomini quante sindache donne ci sono eh in Italia quanto è grave questo problema e allora questi elementi come si possono risolvere? c'è un un portale della pubblica amministrazione italiana in cui ci sono alcune di queste informazioni ma per esempio potreste anche passare da eh wikidata in termini di linked open data quindi voi avete eh dei codici identificativi delle persone che magari avete preso dal dal sito del 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 ministero credo degli interni che pubblica eh queste informazioni però non avete idea eh dell'età di queste persone della laurea perché voi state facendo un un'analisi che è molto più ricca non volete soltanto dire c'è un problema legato al genere ma c'è un problema come dire sociale territoriale legato bu alla formazione al territorio e allora grazie al fatto di poter linkare tra tra loro dati e con eh wikidata a partire da un certo indirizzo da una chiamata potete eh dedurre a catena altre informazioni tra cui ehm l'età questo se ovviamente è presente il nome del dei rappresentanti della vostra città eh nelle città e e questo secondo me è molto carino è molto è molto utile allora un po' di ispirazione dovete pubblicare tra sei mesi il portale open data avete letto dei documenti alcuni vi sono piaciuti altri meno eh però sono quelli ufficiali come dire ci tocca comunque eh avete creato il il team di di lavoro un elemento importantissimo avete trovato budget insomma c'è tanta roba da fare prima di di pubblicare alcuni elementi di 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 ispirazione allora ehm sull'ispirazione è un po' come quando si tifa per una squadra a calcio o o quando si compra una una fotocamera canon o Nikon l'ispirazione è un fatto personale quindi diciamo eh qui vi sto dicendo delle cose che ovviamente hanno a che fare con degli elementi che che formalmente sono considerati minimi ma sono vi evidenzio quelli che io nella mia esperienza ritengo di di particolare interesse open coesione è un portale famosissimo penso che il 90% di voi lo conosca già già questo da solo secondo me ci dice qualcosa perché se se ne parla tanto non è perché vendono pubblicità non è non è la coca cola se ne parla tanto perché è veramente un esempio e se voi guardate il sottotitolo di open coesione capirete perché è è un portale che non è solo un portato open data è un portale di servizi un portale informativo perché è un portale così citato perché loro hanno come motto quello di scoprire seguire sollecitare quando io vi dicevo andare oltre le norme in qualche modo oltre gli obblighi in open coesione ci sono tutte le evidenze di questo atteggiamento che molte che io ritengo diciamo veramente veramente d'impatto rispetto alla responsabilità molto bella e molto forte che avete voi utenti della pubblica amministrazione è un'iniziativa di governo aperto il cosiddetto open gov sulle politiche di coesione in Italia e quindi finanziamenti legati alle politiche di coesione in Italia coordinato dal dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del consiglio dei ministri e si rivolge a tutte e tutti quindi ai cittadini agli amministratori ai tecnici giornalisti a un accesso veramente orizzontale con ovviamente un obiettivo minimale che è quello di poter valutare l'efficacia e la coerenza dell'impiego delle risorse delle politiche di coesione e questo è un tema ovviamente interessante perché quando noi sentiamo al telegiornale quando leggiamo online di un gran bel finanziamento che ha un impatto sul nostro territorio quindi finalmente scopriamo che un certo impianto mancante nella nostra città finalmente viene realizzato poter non soltanto conoscerne i numeri ma conoscerne le scadenze l'inizio lavori il tipo di avanzamento dei lavori se sono state pagate fatture chi sono gli intestatari chi ha vinto quel bando insomma poter conoscere come vengono spesi i soldi a volte tanti soldi ma non per fare tra virgolette semplicemente quello che dai cartellini rossi secondo me è un aspetto noioso è utile attenzione ci mancherebbe se c'è un progetto che rimane fermo per 5 anni ed era previsto già in attivo da 2 anni facciamo i cartellini rossi ma soprattutto la parte informativa il poter dire il quasi poter godere del fatto che i fondi pubblici come dire si prendono cura di noi non mi ricordo com'è esattamente la frase ma insomma tutto sommato il bello di pagare le tasse è un altro elemento molto importante quindi vediamola anche dal punto di vista positivo con open coesione puoi scoprire quali sono appunto i progetti che si finanziano con i classici blocchi che caratterizzano che cosa è una politica di open gov in una politica di open gov ovviamente devo rendere trasparenti accessibili dati devo rendere disponibili degli strumenti per farlo più semplicemente quindi vado oltre la pubblicazione del dato metto modalità che mi rendano facile la lettura la trasformazione di questi dati devo creare delle iniziative se faccio open gov quindi ripeto qua siamo ancora oltre gli open data però è un esempio importante non potevo non farlo e definire degli accordi questo anche nei portali open data è molto utile perché per esempio tipicamente un lavoro dispendioso è quello di fare accordi tra una pubblica amministrazione di più alto livello Regione Piemonte Regione Lombardia faccio questi esempi trovate la documentazione in questi portali su come un comune può sfruttare un ente regionale per pubblicare quei dati quindi sono accordi con delle procedure dei documenti formali delle specifiche tecniche quindi è un aspetto importante prendervi cura di di farne diffusione questo nei portali open data inizia a diventare una buona pratica una raccomandazione quindi la sezione come dire news la sezione informativa quindi voi avete pubblicato i data set perfettamente corretti dal punto di vista formale e tecnico ma non avete scelto di fare la sezione news non è un problema però un'opportunità quindi una news al mese in cui raccontate un caso di riuso in cui raccontate un nuovo data set importante come siete riusciti a portarlo online anche in qualche modo facendo autocritica o comunque rendendo le persone consapevoli del fatto che non è tutto così facile che non si fa click su un pulsante che non è sempre con un click su un pulsante che si escono i dati quindi anche da questo punto di vista fare diffusione per consapevolezza è molto utile e in open questione si vede subito l'elemento informativo voi avete in basso dei numeri di sintesi quindi sono monitorati niente meno che 203 miliardi di euro sono monitorati 105 miliardi di euro di pagamenti e sono monitorati 1.700.000 progetti di politiche di coesione sono diciamo finanziamenti europei banalizzo un attimo comunque progetti legati alle politiche di coesione la cosa eh interessante che eh trovate eh nella pagina ehm mi scuso se è poco leggibile ma comunque eh poi la trovate eh sul ehm sul sito ufficiale nella pagina open data eh trovate la cura per introdurre le persone all'utilizzo dei eh dati aperti sulla sinistra trovate le definizioni perché non possiamo dare per scontato che eh mio cugino sappia cosa siano gli open data e quindi linea di massima createla anche voi una sezione nel portale in cui con poche parole io vi direi non rimandate a un documento rimandate a un documento per approfondire ma se potete aggiungete pochi concetti di base al vostro sistema di pubblicazione e qui vi dice che gli open data sono quelli accessibili eh elaborabili di un'applicazione informatica quindi machine to machine accompagnati la licenza questi tre punti li avete sentiti mille volte mentre eravamo insieme eh la licenza è messa in primo piano quindi quando voi entrate nel portale open data guarda caso la licenza ehm viene subita messa in primo piano viene messo in primo piano il ehm in qualche modo chi sono ehm le parti in causa come la ragioneria generale del dello Stato e ehm ehm l'altra cosa che ehm vi viene detto un po' la storia di questi dataset quindi sono pubblicati ehm bimestralmente a distanza di circa tre mesi è data il riferimento quindi c'è uno shift ma comunque con aggiornamento ehm bimestrale vi dicono delle note sul formato delle date ne abbiamo parlato qui qui viene presa la raccomandazione ehm di anno mese giorno nella modalità eh dello standard ISO di cui vi abbiamo vi ho accennato e guarda caso viene messo in evidenza nella pagina introduttiva per capire che non è un tema così bacchettone ma che è un tema che ha una sua una sua sostanza e ehm 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 sono classificati questi dati secondo eh gli standard di classificazione tematici quindi vi ho detto che i dataset si classificano tramite dei temi che non che non decidiamo noi sono definiti a livello europeo ehm 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 dopodiché vi ehm vi elenca ehm ehm il i dataset in vari formati è una cosa molto interessante è che qui in basso c'è eh il ehm riferimento ai metadata su questo che ho rotto le scatole vi ho detto se potete i metadata del ehm che definiscono come dire la struttura della singola tabella non il metadata che descrive il dato d'alto livello quindi vi dice titolo progetti open coesione descrizione, tutti i progetti dell'anno 2020-2021 no, io dico descrivete ovvero possibile anche la struttura interna dei dati loro lo fanno e in quel file scaricabile trovate campo per campo in questa modalità che non è uno standard però è una modalità comunque leggibile in cui ho il nome della variabile, la descrizione della variabile, quindi il coop che è uno dei più facili perché più o meno lo sappiamo che cos'è viene descritto descrizione breve e poi la nota la cosa che vi faccio attenzionare sono quei nomi di campi ed è lì per cui vi dico se potete descrivete anche voi i campi quando voi avete un campo che si chiama odd cod ciclo ma che è odd cod ciclo per me che è la prima volta che arrivo su open coesione è per me che mi occupo di ambiente magari, non mi occupo di queste cose quindi i metadati servono perché lato sistema informatico molto spesso non si utilizzano nomi con gli spazi quindi il nome del campo è un nome breve senza spazi non è obbligatorio ma molto spesso è così tendenzialmente non trovate in un database codice del ciclo con lo spazio e quindi qua vi dicono codice del ciclo di programmazione e poi c'è la descrizione ricca che qui non si legge che vi dice che cosa è quindi vi dà la possibilità di farvi un'idea chiaramente vi dice se i campi sono numerici se sono testuali se sono quanto sono lunghi quindi questo è molto utile perché se voi dovete costruire un sistema che digerisce quei dati saprete che dovete dedicare al campo che si chiama OC sintesi progetto uno spazio di 1300 caratteri che è la dimensione massima di quel campo e poi molto utile questo è rarissimo non si trova praticamente mai ma è molto utile vi dice guarda il campo chiamato così è attivo dal 2011 mentre questo è attivo dal 2018 quindi in qualche modo c'è quello che è chiamato in un altro incontro il change log il log il diario dei cambiamenti fatti sul dataset una cosa bellissima che fa un po' in coesione è quella di in termini di divulgazione di fare dei focus quindi rispetto al milione e settecentomila di progetti che hanno a che fare con le politiche di coesione fa dei focus sulle strategie quindi tutto ciò che ha a che fare con quei finanziamenti su tre temi importantissimi con un impatto incredibile banalmente il covid banalmente direi drammaticamente anche su covid drammaticamente il cambiamento climatico è una cosa che sembra più piccola perché finché non ci stiamo dentro non ce ne accorgiamo il tema delle aree interne quindi io pubblico data se ho fatto il mio dovere su un po' in coesione si fa un pezzo in più cerco di e sono quindi delle sintesi sia testuali sia degli estratti quindi vengono ripubblicati dei dati che hanno a che fare soltanto con quei temi a partire dal milione di progetti molto molto bello fanno le data card quindi quella parte diciamo divulgativa narrativa e questi qua sono piccole pillole come se fossero diciamo dei tweet delle cartoline legate a dei a dei temi pubblicano dataset tramite API quindi abbiamo visto i file csv sono un po' grossi quelli di di open coesione se provate a fare download e aprirlo col foglio elettronico nella gran parte dei casi vi si inchioda la macchina quindi poi comunque c'è da imparare ad utilizzare altri altri strumenti non un foglio elettronico su alcune cose va a dei limiti l'API l'API per fare l'accesso machine to machine non sto dicendo che sono le API migliori del mondo però comunque sono disponibili quindi aggiungono un elemento raccomandato raccomandato e loro ce l'hanno già da 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 un po' di tempo danno il benvenuto anche sull'API che cosa sono la licenza quindi ancora una volta l'indirizzo di riferimento ci sono ripeto da alcuni punti di vista è un sito vecchio nel senso che Open Coesione è così da tempo ma è così e deve mantenersi così perché tutte queste cose sono tutte utili e raccomandate alcuni sono requisiti attualmente molte di queste cose non le trovate in un normale portale Open Data e qui vi fa l'esempio di come diciamo diciamo uno stesso indirizzo in realtà qui viene viene cambiato con l'estensione ma con un identificativo legato a un URL rende disponibili lo stesso oggetto con due rappresentazioni diverse una pagina HTML e un file in formato JSON questo è lo screenshot una risposta machine to machine in JSON quindi il JSON è un file essenzialmente con una struttura chiave valore quindi nome di campo valore mi dice che il numero di in questo caso di progetti in Open Coesione sono appunto vi confermo il 1.700.000 vi dice che stiamo a pagina 2 io sto guardando i progetti sto guardando la seconda la seconda pagina sto leggendo che per ogni pagina ci sono 25 elementi quindi è paginato di 25 e 25 nel 1.700.000 e poi scusate che a volte mi fermo ma c'è un caldo bestiale ora andiamo in passa tra un minuto e e poi c'è il dettaglio dei alcuni dettagli dei singoli progetti quindi ogni progetto c'è un codice unico ogni progetto c'è un url unico ogni progetto una descrizione e alcuni parametri legati al finanziamento disponibile questo è un dettaglio maggiore disponibile per progetto sempre in JSON quindi qui chi fa l'accesso tramite codice tramite macchina si può diciamo divertire a costruire cose facciamo un attimo pausa che devo bere un bicchiere d'acqua sto schiattando qui a Palermo e ci becchiamo tra tre minuti a tra pochissimo grazie mille Andrea ti lasciamo la parola eccomi uno dei codici disponibili il valore dei codici il valore dell'interoperabilità qui esplode nella sua quasi direi fragranza nel senso che nei codici delle politiche di coesione viene inserito anche il codice unico progetto codice unico progetto che ritrovate ovviamente nel portale open data dei cup nazionali che è un altro portale molto molto importante open cup e quindi io posso mettere in correlazione quei record estratti da open coesione con altre informazioni in maniera automatica per una macchina perché il codice mi garantisce l'interoperabilità e quindi valore di standard valore di interoperabilità esplosi in tutta la loro efficacia nel caso dei cup e di open cup che è un altro portale molto molto importante come 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 esempio in open cup a proposito di indirizzi a proposito del valore degli indirizzi e se io conosco il cup di un progetto quindi l'ho recuperato dopo la incoesione voglio fare una chiamata che mi restituisce subito la pagina di open cup con più dettagli con dettagli diversi rispetto a quel progetto esiste un url che è fatto un po' come vi piacevo vedere nell'esempio degli alberi monumentali open cup .cov.it slash progetto slash cup quindi slash codice codice di cup e quindi si fa la chiamata e viene restituito la parte visuale in open coesione altre elementi chiave di un buon portale open data una pagina contatti fate in modo di poter ricevere richieste di informazioni proposte qualche lamentela pazienza è uno sforzo ci vuole del personale ma è essenziale perché gli open data si fanno soltanto per essere riutilizzati non si fanno per come dire per per metterli lì quindi se non dovete ipotizzare di trovare delle modalità questa quella del forum non è l'unica ma vi faccio vedere questa ciò che rende open coesione una piccola gemma difficilissimo ci si arriva dopo anni di lavoro sono due progetti correlati come a scuola di open coesione e moniton sono due progetti interessantissimi a scuola di open coesione se avete figli e figli al liceo segnalatelo il progetto ai docenti e alle presi se non lo conoscono perché è un'esperienza straordinaria viene insegnato a ragazzi e ragazze a che cosa è il tema del monitoraggio civico quindi viene messo come dire un semino di attitudine civica a un'età in cui magari le occasioni non sono magari tantissime e imparano a scrivere articoli giornalistici basati sui dati imparano che cosa sono il monitoraggio di quelle che sono formalità che poi diventano esiti efficaci sul sul territorio imparano a prendersi cura imparano a diffondere e a mettere in condivisione e questo avviene chiaramente soprattutto per merito degli studenti stessi dei docenti ma se non ci fossero dei dati di qualità se non fossero pubblicati in maniera coerente descritta con aggiornamenti progetti di questa qualità non sarebbero realizzabili quindi buttateci un occhio troverete che tendenzialmente scuole d'Italia classi delle scuole d'Italia monitorano un progetto di politica di coesione quello vicino casa loro quello che mai riguarda la loro scuola fanno verifiche fanno interviste è molto bello se non lo conoscete guardatelo monitor è molto correlato e in qualche modo è più uno strumento quasi di analisi cioè mi dice ok il monitoraggio non si fa mettendo 4x su un foglio di carta il monitoraggio di un'opera pubblica si può fare secondo delle procedure dei metodi degli strumenti e troverete questo e tanto altro sul sito monitor open coesione non è un portale open data nel senso non è uno portale SICAN con i dataset e tutto sommato avete visto una pagina con un elenco di CSV e voi mi direte ma Borruso questo non è un portale open data non è strettamente necessario perché loro hanno scelto di fare un sito più un sito web tra virgolette normale e poi hanno creato un catalogo dei dati quindi un file TTL è uno dei formati con cui si descrivono cataloghi di dataset in cui secondo degli standard compatibili col portale nazionale dei dati aperti vengono descritti tutti i dataset e tutte le risorse quindi basta studiare come si fa e diciamo banalizzo un attimo basta creare un file un solo file che mette a catalogo il catalogo è un indice dei dataset questo catalogo viene fatto secondo uno standard viene consegnato a chi gestisce dati.gov.it e quel portale che non è un portale viene indicizzato su dati.gov.it sul portale è sul portale europeo dei dati aperti quindi era questo l'esempio che vi dicevo non è necessario che sia strettamente un portale ma ci sono modi per essere portali diciamo non in maniera esatta altro esempio importante di come si può fare pubblicazioni di dati aperti è il portale dell'autorità nazionale anticorruzione quindi in qualche modo siamo su un solco simile nel senso che siamo su un solco sempre legato diciamo ai soldi ma il mondo dei soldi è il mondo in cui il settore dell'open data ha sempre trovato tutti diciamo tutti gli esempi quelli di partenza quelli che hanno lasciato un segno perché la famosa frase dove vanno i miei soldi è comunque un elemento tipico di monitoraggio di valutazione di qualità valutazione eventualmente di corruzione di crimine di ottimizzazione di valorizzazione delle risorse quindi chiaramente la spesa è sempre qualcosa di monitorato l'ANAC pubblica n cose nel senso che voi nel nel portale ANAC trovate dati non soltanto legati che sono quelli su cui andremo legati ai contratti delle pubbliche amministrazioni ai partecipanti agli giudicatari ma trovate ad esempio pure l'elenco dei responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza trovate l'elenco dell'amministrazione degli enti giudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house trovate l'elenco che è obbligo che è obbligo di pubblicazione della legge 190 del 2012 trovate l'elenco degli arbitri della camera arbitrale non ve li leggo tutti insomma trovate diversa roba legata al mondo dei dati aperti e questo è uno spazio prezioso da cui sono derivati tantissimi casi di di riuso perché sono è il portale dove vengono pubblicati gli xml che le pubbliche amministrazioni devono consegnare una volta all'anno ad ANAC con le spese degli anni dell'anno precedente secondo un formato standard un xml documentato quindi è uno di quei pochi casi non sono poi tantissimi se ci pensate ricordate quando vi dicevo il paniere l'ideale del paniere è fare in modo che tutti i comuni d'Italia se pubblicano i supermercati abbiano tutti gli stessi campi le stesse colonne avviene rarissimamente uno dei casi è questo per fortuna perché è previsto nell'obbligo è questo delle comunicazioni della legge 190 per cui diciamo gli xml sono tutti uguali e quindi chi sa fare cose con i dati può fare business ci sono diverse aziende italiane che hanno fatto business sull'analisi di questi dati perché può prendere migliaia sono più di 20.000 le pubbliche amministrazioni italiane può prendere migliaia di questi dati e farci cose il portale è molto semplice un portale in cui si sfogliano i dati c'è una licenza io della licenza mi faccio un applauso da solo nel senso che per un po' c'era la licenza sbagliata abbiamo fatto una segnalazione ad ANAC che in meno di un mese è stata recepita e cambiata l'ANAC è un ente che ha una caratteristica importantissima per chiunque pubblichi dati dati aperti ascolta questo anche questo mi direte borruso ma questo è banale no non avviene sono in conti diciamo poi a volte ci stanno un giorno a volte un mese ma quello diciamo è molto è molto relativo quindi la licenza una licenza open data formato xml è un check se il controllo dell'xml è andato a buon fine o meno questo è un xml di esempio contiene ovviamente il vincitore l'oggetto del bando gli aggiudicatari i partecipanti le date non contiene tantissime informazioni questo xml è un po' povero da quei punti di vista però contiene diverse informazioni di base dopodiché ovviamente come dire quasi come se fosse una condanna ritorna il CUP perché chiaramente ha maggior forza nel in un portale che ha a che fare con gli appalti della pubblica amministrazione come non può non esserci il codice unico progetto e quindi tra i dataset che trovano pubblicati con cui possiamo fare interoperabilità troppo in coesione OpenCUP e ANAC guarda caso c'è il dataset dei CUP e quindi la magia di avere scelto un codice che consente interoperabilità non è anche questo così banale ad esempio che vi faccio sempre quando mettete il codice comune mettete cefalù con l'apostrofo avete distrutto quel dataset perché l'interoperabilità così è annullata se mettete il codice istat del comune se usate u con l'accento usate u apice non conta più perché non utilizzate etichette ma utilizzate codici e l'esempio del codice istat comunale è un esempio classico da sessione didattica anche questo che vi faccio vedere non è affatto così tipico ma io ve lo faccio vedere apposta per vedere un'eccezione in positivo di un portale molto importante ANAC descrive non soltanto il titolo del dataset descrizione ma il dataset descrive la struttura dei campi la colonna CIG che cos'è nessuno magari non tutti di voi sanno che è il codice identificativo gara vi dice che è questo che lo descrive vi dice che è stringa e così via per gli altri campi non è per niente scontato hanno scelto da poco di pubblicare in un formato molto moderno quindi cosa hanno fatto se nel team open data avete l'esperto di dominio loro hanno studiato nel loro dominio come vengono pubblicati i dati sui contratti pubblici ed esiste un formato internazionale che si chiama open contracting data standard che fa avanzare questo portale open data quindi non solo pubblico in csv ci sono e quindi li posso usare io pubblico anche in ocds e questo non è soltanto per avere una medaglia d'oro perché io sono moderno la cosa bella è che siccome anche il messico pubblica in questo formato e siccome la corruzione l'analisi di questi dati non ha limiti amministrativi anzi in qualche modo queste cose vanno viste in un contesto il più globale possibile se utilizzo un formato in cui il nome campo è uguale in tutto il mondo il tipo campo è uguale in tutto il mondo io posso fare analisi di un livello ancora più importante quindi quando pubblicate ad esempio date ambientali alcuni di voi lo fanno per fortuna l'Unione Europea già mette dei vincoli ma insomma questo tema di scegliere il formato che è standard per quel settore è ovviamente una raccomandazione di maturità più avanzata questo è un esempio in atto in questo momento anche loro pubblicano tramite API quindi la pubblicazione tramite API non era un obbligo perché loro alcuni di questi probabilmente alcuni di questi diventeranno dati di alto valore ma insomma comunque pubblicano tramite API raccomandazione fare leggere quei dati a mia cugina e a mio cugino che non sanno leggere open contracting data standard che è un JSON non sanno leggere e meno il CSV perché lo aprono con blocco note non sanno che si apre con Excel e quindi dei numeri dei numeri di sintesi la possibilità di fare delle ricerche per codice identificativo gara per i bandi che sono in corso per una certa stazione appaltante con degli elementi grafici che mi fanno subito vedere quali sono che mi fanno vedere che questa classe di importo sui 40.000 euro è quella più diffusa per tutta Italia rispetto ai bandi della pubblica amministrazione quindi già inizio a capire inizio a poter raccontare alcuni di questi elementi altri grafici grafici radiali che mi fanno vedere le tipologie che il settore ordinario rispetto al tipo di procedura è il settore più diffuso io qua non c'ho l'interattività se avessi la possibilità di far vedere lo schermo sono tutti grafici interattivi per cui ho mouse over e emergono elementi quindi la cura del rendere questi numeri così ricchi e complessi leggibili ho pubblicato il dato in più riesco a fare visualizzare già direttamente dentro casa Morena chiedeva sul tema dei metadati allora sicuramente un buonissimo esempio di quello che si può fare con i metadati e con gli standard dei metadati è sicuramente è anche un po' tra i quattro di livello avanzato di livello un po' complesso però un punto di riferimento è quello che viene fatto dal portale dati.cultura.gov.it diciamo il punto di ingresso ai dati dei beni culturali e guardando il menu ci rendiamo conto ancora una volta quanto anche in questo caso si provi a fare tutto quello che si dovrebbe fare con la pubblicazione dei dati quindi la presentazione del progetto i dataset l'API per accedere ai dati i contatti i crediti cioè a chi si deve tutto questo a chi dobbiamo dire grazie questo è un altro punto secondo me importante perché dopo le norme dopo le procedure ci sono le persone anzi forse prima di tutto questo quindi citare gli uffici magari non Tizio Caglio insomma è un aspetto che non ho citato qua lo vedo e mi fa piacere farlo notare le interrogazioni tramite Sparkle su questo portale la gran parte la gran parte dei dati sono pubblicati in modalità 4 e 5 stelle è uno dei portali più ricchi in tal senso e loro hanno costruito delle ontologie che è un concetto filosofico di base ma lo leggo a schermo è appunto un modello formale che rappresenta un dominio di conoscenza sulla base di specifici requisiti serve a descrivere la semantica dei dati con una terminologia concordata e nasce con un accordo consensuale sulla definizione di concetti e relazioni che caratterizzano la conoscenza del dominio stabilito se io devo pubblicare dati su dei monumenti non è che mi metto lì e dico vabbè allora ci sarà sicuramente l'età del monumento e l'età come la definisco rispetto a quale elenco controllato di definizione dell'età e se devo definire i materiali e se devo definire gli orari d'apertura e se devo definire i responsabili di quella sezione del museo e se devo mettere delle coordinate tutto questo per fortuna si può appoggiare su delle spalle dei giganti cioè c'è chi definisce a livello spesso internazionale la struttura di queste cose e ad esempio loro hanno a volte definito a volte semplicemente ereditato degli oggetti come che ne so il bene architettonico paesaggistico e viene descritto viene descritto sia in termini descrittivi sia in termini come dire di schema sto un po' semplificando che cos'è un bene botanico che cos'è un bene culturale e tutto questo crea cascate interoperabilità perché in qualche modo tutto ciò che viene dalle sede periferiche poi verrà ricondotto in unica modalità di rappresentazione che può essere che può essere resa interoperabile interoperabile con tutti i beni che aderiscono a standard alcuni di questi sono internazionali e quindi io in maniera molto facile posso ancora una volta a partire da questo elenco fare una bella app che prende anche dati da wikipedia che prende dati da openstreetmark perché viene garantita l'interoperabilità perché ho utilizzato una descrizione coerente standard descritta e internazionale i dataset sono scaricabili in formati in diversi formati tra cui json rdf xml e tartal quindi formati un po' più da esperti di dati ma comunque tutto documentato hanno reso disponibile l'endpoint per fare delle query diciamo linked open data e hanno fatto quello che vi raccontavo cioè loro a chi è alle prime armi quindi è un tecnico ma non ne sa molto di queste cose vi presentano delle query di esempio in modo da aver restituito tutti i luoghi della cultura luogo della cultura è un tipo di oggetto presente dentro questo portale con latitudine e longitudine telefono fax sito web biglietti e vi fa vedere una query che a prima vista sembra molto complicata in realtà è una query abbastanza standard c'è il codice per fare la query e c'è la possibilità poi di eseguirlo e di questi ce n'è altri come che ne so questo è ancora più interessante perché vi fa vedere una query di interoperabilità una query diciamo verso il 5 stelle in cui vengono in cui ci sono le opere descritte su wikipedia conservate nei luoghi della cultura quindi io creo interoperabilità efficace nel senso che grazie al fatto che in centra interoperabilità estraggo grazie al potere dei link d'open data estraggo dati che arricchiscono i dati che avevo in partenza e qui c'è un esempio non ricordo più perché ho messo di nuovo questa slide sarà un errore di stanchezza quindi vado avanti nell'API qui ci sono moltissimi dettagli perché hanno più di un API di di accesso sono descritte ci sono gli esempi questo portale ve lo faccio vedere è un portale più tradizionale è il bellissimo portale dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia pubblicato relativamente da poco costruito con SICAN quindi costruito con una tecnologia diciamo standard diffusa potete farlo anche voi domani però ha un qualcosa che praticamente trovate come portale open data soltanto in questo portale quindi ve lo faccio vedere come eccezione è un portale in cui il tema della scienza aperta che è un tema in qualche modo di fondo rispetto a gli open data perché di fondo perché chi fa chi fa scienza aperta deve mettere in pratica delle procedure che hanno molto a che fare i principi FAIR che ho citato diverse volte in queste presentazioni quindi quando io pubblico dati devo documentare i dati devo documentare come rendere riproducibile il processo che ha portato alla pubblicazione di quei dati quindi documentare la pipeline nella scienza è fondamentale perché devo poter dimostrare l'uscita di quei dati nell'open science nella scienza aperta ovviamente c'è la cura agli autori di quella ricerca autori e autrici di quella ricerca e qui hai dataset dataset importanti perché ripeto quindi il portale che ha a che fare con la vulcanologia con i terremoti quindi dati su cui si prendono scelti importanti si fanno allerte su cui si mappa il territorio e troverete ripeto in maniera assolutamente atipica non soltanto i nomi spesso nei nostri portali trovate nei portali open data trovate il nome dell'ufficio qui trovate il nome degli autori e c'è il link in maniera interoperabile agli autori dei dataset una rarità però assolutamente da sottolineare l'INAIL ve lo sottolineo come altro portale open data interessante cita la norma di riferimento una descrizione dei dataset vi cita le licenze la sezione casi d'uso quindi ha tutti quegli elementi accoglienti anche questo è un sito vecchietto non è il non plus ultra di come si potrebbero oggi rendere dati ma ha tutti quegli elementi chiave minimi importanti da rendere disponibili in realtà sono dati di grandissimo interesse dal punto di vista dell'analisi ricerca a prescindere di quale sia il vostro il vostro ruolo o il vostro mestiere ovviamente ci sono gli infortuni sul lavoro le malattie professionali sono i due i due contesti più 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 importanti con una descrizione di tutto quanto ciò viene pubblicato quindi non è una descrizioncina piccola c'è un elemento più ricco in tal senso c'è l'invito a segnalare un'applicazione che sfrutta i loro dati quindi anche questo è un elemento che vi cito e ancora una volta c'è un end point Sparkle con una query predefinita con più query predefinite ad esempio in questo menu a tendina quindi volete vedere i casi di malattie professionali per anno di protocollo e genere in Sicilia occhio il tema del genere mi rimprovo di averlo citato soltanto una volta laddove pubblicate dati in cui il genere è un elemento che classifica le informazioni che state pubblicando datene conto verificate eventuali problemi di privacy se sono superabili fate in modo che quel dato sia descritto diversamente in base al genere perché delle volte la lettura l'impatto di quell'informazione rispetto al genere cambia molto e cambia molto per chi analizza per chi prende decisioni per chi fa anche norme su quelle cose quindi chi fa norme sugli infortuni è importantissimo in questo caso che possa capire se rispetto al genere ci può essere un impatto diverso per capire perché è legiferare di conseguenza quindi la query si lancia l'esempio e si fa IPA il mitico indice della pubblica amministrazione questo forse lo conoscete tutti il 100% non so che conoscete il portale ma insomma conoscete che cos'è l'indice della pubblica amministrazione anche questo è un portale standard diciamo in termini tecnologia è un portale SICAN è un portale in cui trovate i dati in tantissimi formati dal CSV al JSON anche all'XLSX loro hanno scelto di dare la possibilità veramente a tutti a fare click download di di quei dati a qualsiasi ufficio di un pubblico di amministrazione a qualsiasi utente e in più una cosa stupenda anzi due cose stupende che hanno è la prima che è un po' atipica ve l'ho già consigliata loro hanno fatto il manuale utente quindi per conoscere cos'è un dataset perché arrivo io che non ho idea ma che cos'è un dataset se non sono del settore hanno fatto il manualetto tipo Docs Italia in cui vi raccontano una breve introduzione a cosa sono i dati aperti e poi hanno è rimasto un po' tagliato per ogni dataset hanno pubblicato i metadati quindi non soltanto descrivono il dataset ma descrivono il contenuto e quindi nel contenuto trovate il nome del campo il la descrizione il il formato quindi se sono testo se è numero questo è molto importante per chi come noi poi deve elaborare dati ve l'ho già citato sempre in termini di ispirazione sempre in termini di modalità di scelta di andare online la protezione civile nazionale per i dati covid ha fatto una scelta molto coraggiosa perché ha aperto addirittura alla possibilità di ricevere in maniera continua delle segnalazioni pubbliche su quei dataset ovviamente di altissimo interesse stiamo parlando di un'emergenza nazionale magari non si può fare per tutto ma è interessantissimo loro una sorta di forum si chiamano issue segnalazioni in cui trovate un po' di tutto da segnalazioni tecniche guarda quel dato dovrebbe essere un numero ma invece una stringa è sbagliato guarda guarda quel dato è maggiore di 3000 non ha senso deve essere minore di 2000 non solo hanno deciso di farlo pubblicamente quindi non c'è l'email per cui nessuno vede quello che succede questo è uno spazio pubblico tutti vedono quello che succede tutti vedono le risposte quindi tutto viene messo a fattor comune e la cosa bella è che io utente che vedo un altro utente che scrive già una cosa già risolta io stesso posso dire senti Giuseppe guarda che sta roba è sbagliata guarda che sta roba ha già avuto una risposta guarda che questa roba è documentata qui leggi bene quindi c'è una parte proattiva complessiva che educa tutte e tutti cioè educa la pubblica amministrazione ed educa noi quindi è una bella opportunità ovviamente ha un costo cioè ci vuole tempo ci vuole personale però è bellissimo è bellissimo chiaramente richiede pulizia dei dati insomma richiede richiede un bel lavoro noterete che sono più di millecento sono millecento circa segnalazioni di cui novecento chiuse centosettanta aperte insomma veramente un un bel lavoro questa perché ve la faccio vedere come ispirazione perché per esempio bisogna anche capire dove siamo nel mondo a giugno del duemilaventidue è necessario e ci mancherebbe che non fosse così fare una challenge che ha bisogno di dati perché è una challenge che deve fare data visualization perché deve fare data visualization perché bisogna fare comprendere non al mondo ma a chi vive in Africa alcune criticità di quel continente renderlo più visibile perché per per combattere per qualcosa per chiedere diritti per fare meglio senza conoscere è impossibile quindi questo è un bel esempio da questo punto di vista importante teniamo conto anche di questo aspetto che ha un po' a che fare col tema di dati e potere è uscito il Global Data Barometer su cui viene basata moltissimo di questa challenge che viene fatta per l'Africa che è un po' la versione riveduta e corretta di un progetto che si chiamava Open Data Barometer però la versione che si chiama così è una versione pubblicata da poche settimane è un'analisi globale di come nei vari paesi del mondo vengono attuate le politiche di governo aperto e soprattutto sui dati aperti e questo è interessantissimo perché scoprirete soprattutto nell'analisi del metodo di valutazione di come viene realizzata la politica di Open Gov sui dati aperti scoprirete come fare meglio come essere efficaci perché trovate un po' come dire i criteri di classificazione e per esempio loro mappano ho lasciato in lingua inglese loro mappano quattro elementi principali che sono verificano come viene fatta la governance rispetto al tema dei dati esistono delle direttive delle linee guida delle norme che le regolano o è un po' fatto al buon cuore diciamo delle pubbliche amministrazioni non date per scontato nulla non tutti i paesi del mondo purtroppo sono in buona salute e quindi deve essere valutato anche questo chiaramente l'Italia ha una governance dei dati ci mancherebbe viene mappato come la pubblica amministrazione come il mondo esterno il mondo interno è capace di raccogliere gestire condividere utilizzare quei dati delle volte pubblichiamo dati ma tutta la parte di riuso di comprensione della conoscenza dei dati non lo sappiamo fare a volte nemmeno noi e non facciamo di tutto per fare in modo che avvenga come conseguenza rispetto al lavoro che facciamo vabbè la disponibilità i temi del punto 3 sono stati tra i temi di cui ho parlato di più durante questi incontri e poi misurare l'uso e l'impatto che viene fatto di questi dati questa è una frase che vi porto dal report il report è molto bello ragioniamoci ci rendiamo sempre oltre le norme oltre gli obblighi perché i dati sono una fonte di potere cioè possono essere sfruttati per un tornaconto privato e utilizzati diciamo per limitare la libertà o possono essere distribuiti e gestiti per il bene pubblico noi questo dobbiamo riuscire a fare appunto per affrontare le sfide che sono sanitarie sociali ambientali e consentire quest'ultima parte ci dobbiamo sforzare a farlo un po' meglio tutti anche noi esterni consentire collaborazione guidare l'innovazione e migliorare l'accountability della pubblica amministrazione quindi abbiamo visto alcuni casi siamo partiti da alcuni elementi diciamo legati alla pubblicazione alcuni casi che ho detto di ispirazione ripeto altri docenti probabilmente poi in coesione l'avremmo portati tutti ma magari qualcuno non avrebbe portato Inail avrebbe portato un'altra ancora parigliateli come esempio per il uso stessa cosa ognuno di noi porterebbe cose diverse vi faccio alcuni esempi che a me sono piaciuti alcuni molto recenti altri che hanno già una bella storia alle spalle questo è un esempio berlinese che in questo momento in cui sto morendo dal caldo penso di non essere l'unico in questo momento e mi ha colpito è un riuso fantastico perché a volte quando facciamo i convegni poi dall'altro lato ci viene chiesto sì vabbè ma che serve stiate aperte una fissazione ma servono veramente cambiano qualcosa cambiano il mondo attorno e allora vabbè tipicamente si fanno sempre gli esempi sui soldi e trovare qualche esempio diverso anche divertente è molto utile anche a fare divulgazione che hanno fatto a a Berlino loro hanno creato la Berlin refreshment map quello l'ho tradotto automaticamente dal dal tedesco che mostra le zone fresche ventose o ombrose della città e mostra quali luoghi sono particolarmente adatti per rinfrescarsi e rilassarsi in base alle loro caratteristiche o alle loro infrastrutture perché magari oltre all'ombra mi è utile sapere se c'è una panchina mi è utile sapere se c'è una 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 fontanella la cosa stupenda è questa mappa in cui trovate le ombre rispetto agli edifici rispetto all'ora del giorno in cui siamo perché a una certa ora c'è una certa ombra in base alla posizione del sole le fontanelle le panchine le piscine con la leggenda perdonate il tedesco ma insomma chiaramente mi serviva come esempio utile quindi lavorerei per la mia città che Palermo è una cosa di questo tipo e qui non servono chissà quali dati perché gli edifici è un elemento di solito disponibile in tantissimi portali territoriali le fontanelle è diffusissimo le panchine un po' di meno questa ve la lancio come richiesta chi di voi gestisce questo tipo di elementi se ne trovano un po' come informazioni su wikipedia su open street ma soprattutto ma pubbliche amministrazioni che pubblicano questi dati sono pochini guardate che sta roba serve e ovviamente la temperatura è un dato che abbiamo da dati satellitari da dati sensori sono spesso pubblicati dalle arpa ma ripeto li troviamo sul progetto copernicus e lo stesso per il vento tutto questo che vedete qui tutto è basato su dati aperti in più le persone che l'hanno sviluppato hanno pubblicato anche la parte tecnologica su github e quindi documentano come l'hanno fatto e rendono il codice disponibile quindi questa eccezionale riuso con la spinta il riuso nel caso dell'esempio della mappa di berlino è un riuso fatto mettendoci testa però i dati erano buoni in alcuni casi non è così a volte ci vuole un po' di spinta quindi ci sono dei dati ma devo metterci del mio qua faccio un esempio che mi tocca è un esempio che ha a che fare con quella che è secondo me la comunità open data regionale più attiva è forse anche una delle più 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 vecchie io ne faccio parte quindi insomma sono in completo di interessi open data sicilia open data sicilia crea informa covid che era che è un kit di comunicazione è un'idea molto molto bella perché l'obiettivo di chi l'ha pensato non è pubblichiamo i dati sul covid ma è principalmente aiutiamo le pubbliche amministrazioni soprattutto quelle piccole che hanno poco staff hanno poco tempo a volte hanno poche competenze diamogli un kit di comunicazione per informare la cittadinanza e si è andati quindi oltre il riutilizzo dei dati è stata fatta la videoguida che introduce il tutorial passo passo che dice guarda se hai per caso una semplice tabellina fatta così e la trasformi in questo modo poi puoi creare tu stesso una dashboard in questi pochi passi tutto documentato tutto anche con il codice disponibile seguendo la guida si crea la dashboard quindi leggibile da chiunque e c'era anche la possibilità di avere il bot telegram quindi apro una chat e interrogo rispetto a una località per avere delle informazioni sul taglio comunale che è un taglio atipico per il covid tipicamente ci si ferma alla provincia il taglio comunale è un taglio abbastanza atipico poco diffuso lo abbiamo messo reso operativo a volte in maniera a volte noi tra virgolette alle volte in casi molto belli in dialogo diretto con le pubbliche amministrazioni che hanno voluto sfruttare il kit per alcuni comuni poi vedete i loghi i loghi presi in interoperabilità da da un'altra fonte viene pubblicata una classica dashboard su cui ci abbiamo un po' lavorato vengono oltre alla dashboard come regola minima quando pubblicate dashboard pubblicate sempre i dati e quindi abbiamo lasciato anche noi i dati scaricabili in formato csv e questo perché con la spinta perché questo è il file da cui si partiva le ASP l'ASP di Caltanissetta un comune centrale della regione Sicilia raccoglie 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 con questo foglio elettronico che come vedete è un foglio elettronico pensato per essere guardato dall'uomo perché ci sono le intestazioni doppie le date i totali su queste cose non posso fare analisi dati però è un formato strutturato e allora scusate e allora io posso riconoscere elementi che grazie al primo e il secondo incontro sono da rimuovere dobbiamo dobbiamo rimuovere le intestazioni inutili dobbiamo rimuovere i totali perché si pubblicano soltanto i dati grezzi dobbiamo rimuovere righe e colonne vuote è un dato grezzo a più o meno questa faccia nel senso che abbiamo lasciato soltanto i nomi di comuni e i valori per tipologia di parametro quindi i ricoverati in terapia intensiva eccetera eccetera è la data notate la data la data è messa come 24 questa è un'altra modalità 24 trattino mar trattino 2022 chi parla un'altra lingua mar non vuol dire niente quindi diciamo l'interoperabilità viene molto abbassata mentre se la data viene riportata in un formato standard internazionale come 2021 03 06 questo è comprensibile da da tutti abbiamo inserito i codici dei comuni quindi a partire dal dato che l'ASP ci rende disponibili in riuso quindi stiamo dialogando con la pubblica amministrazione che ci fa avere disponibile quel file che è bruttino ma abbiamo fatto un accordo ce l'hanno documentato trasformiamo arricchiamo aggiungiamo il codice comunale così diventa standard è interoperabile con i tantissimi dati sui comuni su altri temi disponibili e abbiamo aggiunto delle coordinate in modo tale da poter fare anche delle mappe abbiamo ovviamente noi documentato i tipi di campi quindi nomi campi descrizione se sono date se ci sono delle regole per esempio il codice del comune Istat c'è una regola che deve essere del codice numerico fatto da sei caratteri non è una regola che mettiamo noi è la regola con cui sono fatti i codici Istat comunali la cosa bella di avere dei metadati vi dicevo nella seconda lezione se non sbaglio è che possiamo usare i metadati per fare dei controlli quindi non soltanto rendo leggibili a me i documenti ma posso dire al calcolatore guarda controlli che il codice Istat è stato messo che era obbligatorio ed era di sei cifre e io per esempio qua semplicemente mi è stato detto che per il comune 085-010 che non so qual è in un certo giorno il controllo ha dato esito falso quindi c'era un problema abbiamo verificato mancava un codice l'abbiamo riferito all'ASP è stato corretto e abbiamo ripubblicato il mondo il mondo dei dati aperti è in continuo cammino da pochi giorni sempre a proposito della domanda di Morena questa è la risposta alla domanda di Morena è stato pubblicato il catalogo nazionale della semantica dei dati credo tre giorni fa cioè parliamo veramente di una roba indiretta quasi è la pubblicazione delle ontologie degli schemi dati e dei vocabolari controllati consigliati disponibili per tutte e tutti ovviamente per le pubbliche amministrazioni ma la licenza è aperta quindi è molto utile anche alle aziende che non devono spaccarsi a capire come strutturare degli schemi ma su alcuni temi li hanno già disponibili e tra ontologie e vocabolari controllati abbiamo circa 71 anzi no circa abbiamo 71 esempi tra cui ad esempio come si definiscono qual è il vocabolario controllato degli oggetti geografici dei comuni delle province delle regioni che nomi campo utilizzo cosa c'è scritto dentro questo per esempio è il vocabolario controllato delle ripartizioni geografiche d'Italia quindi centro isole sud nord est nord ovest non è inventato ci sono delle etichette che vanno utilizzate sono quelle etichette che poi quando arrivi il covid vi trovate nei casi nel dizionario covid grazie al fatto che esiste un vocabolario controllato che vi rende interoperabilità con i codici istat che tengono conto per esempio quasi sempre della ripartizione geografica questo invece è l'esempio del codice istat comunale quindi qui siamo nel caso della definizione delle degli identificatori delle città siamo nei cities identifiers con in cui uno degli attributi il codice identificativo è il codice affronumerico istat di sei caratteri quindi con lo zero iniziale perché lo standard è questo a volte trovate in maniera impropria lo trovate ridotto a numero senza lo zero iniziale non è standard standard è quello di sei caratteri dico caratteri perché con lo zero davanti non è non è un numero e quell'indirizzo come detto nelle prime slide questo url che mappa un codice quindi trasformo l'etichetta in un url mi dà un risultato leggibile leggibile dalla della macchina che mi dice che è Terranova di Sicilia che fa parte della che si chiamava prima cioè che è Gela che prima si chiamava Terranova di Sicilia perché tra i dati fantastici che trovate ci sono anche le variazioni dei nomi dei luoghi nel tempo caso di riuso molto molto carino è il mitico Foglia Pop che ha vinto anche dei premi nazionali basato su dati aperti a che serve Foglia Pop Foglia Pop serve a fare una richiesta d'accesso ai dati è una norma che conoscerete tutti ed è una norma da cui a volte derivano dati aperti perché alle volte da una richiesta Foglia la pubblica amministrazione che riceve la richiesta pensa ma io non devo ogni volta rispondere con un email ma perché sto dato non lo pubblico nel portale quindi a volte una richiesta Foglia è in maniera diciamo indiretta una produttrice dei dati aperti cambia una procedura le pubbliche amministrazioni italiane sono più di 20.000 se per formare questa Foglia devo raccogliermi una grafica delle pubbliche amministrazioni e per esempio già il nome dei comuni italiani il nome delle pubbliche amministrazioni mi viene dati aperti e di fatti grazie all'indice delle pubbliche amministrazioni Giovanni Pirrotta che è lo sviluppatore di questa applicazione crea il modulino completamente automatico quindi io scrivo Bergamo comune di Ber e mi viene completato quindi molto comodo riesco a farlo grazie al fatto che c'è un dataperto noioso come un indice delle pubbliche amministrazioni che è una noia mortale ma invece un impatto fortissimo recupero le informazioni anagrafiche tra cui quelle di indirizzo del comune di Bergamo e poi posso fare diversi tipi di richieste non soltanto foglie posso fare accesso civico un nuovo accesso civico generalizzato posso grazie a un'altra banca dati e banca dati siope posso fare delle richieste legate a un certo incasso di un certo di un certo comune e quindi vado nel comune di Bergamo e vedo che nelle entrate c'è uno degli incassi per cui voglio capirci di più ci sono poche informazioni voglio fare una richiesta foia autocompilata quindi mi autocompila così per come deve essere citando la fonte siope l'identificativo e viene generato poi un documentino che posso utilizzare quindi tutto non vi ho fatto l'esempio sono stupido un template già pronto dovete solo usarlo in una delle n modalità con cui si può fare una richiesta vi vengono chiesti i vostri dati nome e cognome e diciamo viene prodotto un pdf pronto per essere utilizzato tutto compilato compilato a norma quindi è chiaro che una richiesta a norma e potete inviarlo ho finito nel senso che finisco con le fette biscottate e la marmellata perché perché questa slide questa slide perché voglio farvi una citazione a cui a cui tengo particolarmente spero di essere riuscito in questo senso a trasmettervi qualcosa che sia oltre una una didattica la citazione è di Italo Calvino che dice che la fantasia è come la marmellata cioè bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane altrimenti è un delirio insomma mangiarla correttamente voi come pubblica amministrazione come vi ho detto sin dal primo momento avete delle delle importanti responsabilità diciamo il paese in qualche modo dipende da voi avete una responsabilità ma avete anche delle bellissime opportunità un pezzetto di questo che si realizza con pubblicare dati ben pubblicati di qualità aggiornati descritti interoperabili che rispettano la privacy che rispettano la sicurezza nazionale che abilitano idee che abilitano la fantasia che abilitano una creazione di un qualcosa come la mappa dell'ombra la mappa dei luoghi freschi a berlino che abilitano esempi come i ragazzi e ragazze del liceo che imparano a diventare cittadini protagonisti del loro del loro territorio e voi dovete metterci soprattutto come dire la solida fetta di pane è oneroso ma per fortuna il contesto ormai è un contesto più maturo è un contesto in cui le norme le tecnologie le comunità la ricerca non sono più quelle di dieci anni fa e quindi come dire fra l'altro il PNRR porta anche pezzi di fondi che vanno per esempio sull'interoperabilità c'è tantissimo che vanno in questo senso quindi mi piaceva restituirvi diciamo questa opportunità questa forza che avete a disposizione che chiaramente è una scelta che va fatta da tutti voi in queste modalità grazie grazie mille a te Andrea mi prendo in realtà oggi qualche minuto in più per chiudere questo percorso il grazie va in primis a tutti quanti voi a tutti i partecipanti è stato un percorso lungo articolato ci avete seguito con costanza e devo dire tanta tanta interazione al di là di ogni di ogni previsione più rosa per cui veramente un grazie a retorica grazie ad Andrea Borruso e a tutti i relatori ed esperti che si sono sosseguiti che ci hanno guidato in questo percorso grazie ad Andrea Marrucci per quanto riguarda il modulo sulla comunicazione web e social a Vito Vacca per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza e di nuovo Andrea per quanto riguarda i dati aperti grazie al Dipartimento della Funzione Pubblica che ha patricinato il progetto grazie al Formez PA per tutto il supporto che ci ha dato in termini di promozione e poi operativamente di supporto tecnico e concedetemi anche un grazie a tutti i colleghi del progetto Rinnamica Digitale che hanno portato avanti con entusiasmo e con grande energia la realizzazione di questo corso semplicemente altre due indicazioni una solamente per ricordare anche in questa sede che tutti i partecipanti che hanno fruito in maniera sincrona di almeno 9 dei 12 webinar previsti riceveranno nei prossimi giorni un'email con un questionario di autovalutazione delle competenze e gradimento vi chiediamo di restituircelo perché è necessario poi per la predisposizione e rilascio degli attestati e poi tutti i materiali abbiamo appena mandato il link in chat anche del modulo di open data a livello di presentazioni sono disponibili sul sito di Eventi.pa lo saranno a brevissimo anche le registrazioni sia su Eventi.pa che sul sito di Rinnamica Digitale una buona giornata a tutti e l'appuntamento alla prossima occasione formativa che spero quanto prima possa riunirci buona giornata grazie ancora a tutti ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti